Sì, siamo in Belgio, questo è il Clube di 21 anni, siamo qui per intervistare il DJ, per un show di radio web, italiana web e early hardcore, musica old school. Siamo Frankie Jones, il grande boss del Belgio, con Stevenson, è il creatore del primo album, la canzone più popolare nel mondo. In Italia, Fischer Rebirth. Frankie, voglio una domanda per te. Cosa credi che il Shem, da 20 anni fa, è cambiato? È meglio o non è meglio? Ora, nel momento, credo che è bello. Perché 20 anni fa, le persone che venivano, mi piace o tecno o tecno o tecno o tecno o tecno o tecno, non mi piace altre strade. Ora, i ragazzi, qui nel Belgio, i ragazzi lievano tutti i stiressi, vanno ad hardcore, tecno, tram... Ma credo che sia lo stesso nel nord europeo. Non lo so, non lo so. Penso che ci sono i strumenti commerciali, anche qui, ma c'è una scena grande in grado, piccoli partiti, 3-400 persone, 4-1200 persone. Mi piace questo momento. Questo anno ho festeggiato i miei 30 anni di DJ. Mi piace molto. Un'altra domanda per te. Cosa pensi al futuro della musica? È meglio con il vinyl o con il tractor, con i DJ, con i CD? Cosa pensi per te? Mi piace giocare tutto. Mi preferisco la musica old school con vinyl. Vini le, insa? Vini le. Oggi, io gioco solo un vinyl. Nuo musica, non c'è più di viny. Quindi, devi giocare con i CD o stick. Traktor, mi piace, ma non giocare. Perché in Italia è buono per casa. Ma in Italia, tutti i nostri sono DJ. Oggi, traktor o... Oggi, anche. Traktor è automaticamente... Cosa pensi che non sia buono per i reali artisti, in reali schienzi? Sì. Sì. Ci sono nuovi artisti, che sono davvero buoni, che sono creativi con il tractor. Ma la maggior parte di loro... Quando viaggiate molto come DJ, ogni settimana in Italia, in Italia, in England, è meglio prendere un laptop. Perché, quando ho iniziato a giocare in Italia, per selezionare la mia selezione, io ando in il record shop, per selezionare i record, le liste, e poi poi gioco la mia lista di record. Ecco bene. Ora... Ecco bene, sai quanti vinyli ho? Sì, hallo? 300.000 vinyli. 300.000? 300.000? 300.000? 300.000 vinyli. Sì. 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 Ho 4 garage boxe, complete, e la mia casa è da l'alto. Da l'alto è solo. Sì. Sì. Siamo in Roma, nel centro di Italia, il boss di una famiglia scuola pari. Ma ora in Italia, la scena è o di un articolo, o di un articolo, o di un articolo, o di un articolo, non c'è proprio la musica. Sì. Non c'è una musica diversa. Non c'è un'altra musica. Non c'è più piccola, ascoltano la musica. E un molto culturale della musica, ascoltano la musica. Ma, per me, per me, mi organizzano più di un articolo di party, in Italia, e un hardcore in Italia, in Roma. Voglio organizzare un party in Italia, con te, con più DJs da la musica, Bonsai, da la musica, Robert Romani Sì, sì, ma non in questo momento, perché per questa partita ho bisogno di 1.000 persone, al minimo, e quando sono arrivato, sono sicuro che ho più persone nel club, voi sono i miei artisti, i superstari del Belgio. È un'ultima volta, l'ultima volta che ho spiegato era in Rivoli, in Circo Loco, sì, in Copacolico, sì, ma un'altra volta. Ma intenzione, quando Silvio clavo, azione. La musica inizia lente, si è cresco di vita, lente a la strana, tra trance, il metodo. Sì, sì, mi ricordo. Un'altra volta! Un'altra volta di tutti gli altri, in Italia, in Italia, in oldschool, radici, trentali dei partiti, guardati il DJ, ascoltate la tua nella, william e i buoni! Vi saluto alla XCroma, ficiamo a Nipassion grado di Arco Radio, ogni frattempo, all'inno, dì! grazie